buona giornata amici di fano tv oggi è lunedì 31 ottobre 2022 e questa è la rassegna stampa leggeremo insieme i giornali per conoscere le notizie sia del giorno che quello che è accaduto nella giornata di ieri vedremo quello che sono diverse notizie di cronaca purtroppo con effetti piuttosto gravi poi ne parleremo parleremo anche di Halloween la giornata di fine ottobre che si svolge oggi abbiamo dei risvolti molto molto positivi per quanto riguarda la festa celebrata dai bambini e poi vedremo tutte le altre notizie intanto procediamo con l'almanacco e vedere chi è il santo del giorno oggi festeggiamo santa lucilla di roma vergine martire fu decapitata sotto l'imperatore valeriano ora giace nella diaconia di santa maria nuova a roma insieme ad altri martiri romani santa lucilla è un nome che fa riferimento alla luce e quindi alla luce per quanto riguarda la scoperta della fede fu visse nel terzo secolo ovviamente dopo cristo vediamo anche le previsioni del tempo ecco la grafica non abbiamo diversità da quello che è accaduto nei giorni scorsi ennesima giornata quella di oggi ampiamente soleggiata e decisamente mite per il periodo sulle marche i valori massimi toccheranno i 24 e 25 gradi per quanto riguarda la temperatura di notte questa iscesa intorno ai 13 gradi i venti ispireranno con tensione debole sulle coste da nord nord est sull'interno da est nord est le temperature rimangono ormai stabili sono sempre così da diverso tempo e vediamo che l'alba che stamattina ha tardato a sorgere quindi l'abbiamo vista anche venendo qui in studio questa mattina rispetto alla notte dei giorni passati un'alba molto bella perché l'aurora con il cielo sereno con la vista di fano e del mare è veramente suggestiva vediamo anche un'immagine invece che prendiamo da gabice eccola in questo momento alla bruma la bruma all'orizzonte comincia quel rosa no che rosa quell'arancione il piccolo arancione che si vede che si stempera poi con il celeste del cielo bellissima questa immagine di gabice apriamo ora il giornale corriere adriatico sulla pagina di fano e parliamo purtroppo degli incidenti che si sono verificati nella notte tra sabato e domenica probabilmente sono quegli incidenti brutti che capitano il sabato sera anzi la domenica notte perché si sono svolti in prossimità dell'alba alle 4 il primo e alle 5 del mattino il secondo due incidenti nell'arco di un'ora feriti gravamente quattro ragazzi fanesi sono stati ricoverati tutti in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale santa croce due gravi incidenti uno si è verificato dicevo alle 4 sulla flaminia all'altezza di carrara una macchina con a bordo due ragazze e un ragazzo e non si sa per quale ragione è andata a sbattere contro il guardrail mentre percorreva la flaminia con direzione monte mare era un rettilineo quello che unisce carrara con ponte murello però appunto la macchina ha perso il controllo ha sbandato sulla destra è andata a sbattere violentemente contro il guardrail pensate che per estrarre le persone che erano dentro l'abitacolo i vigili del fuoco hanno dovuto togliere il tetto della piccola panda su cui viaggiavano appunto i ragazzi tutti sono stati ricoverati con il codice rosso all'ospedale santa croce dicevo più gravi sono apparsi la ragazza che sediva che sedeva nel sedile anteriore accanto alla guidatrice è il ragazzo che era invece nei sedili posteriori il secondo incidente invece si è verificato in viale piceno all'altezza del distributore della tamoil qui una mercedes è andata a sbattere contro un motociclista che era in sella ad una onda stava entrando venendo da ponte metauro verso fano stava entrando stava entrando nel distributore ha incoccato così contro la onda il ragazzo è caduto sull'asfalto è stato catapultato e si è leso ha avuto delle fratture agli arti superiori e agli arti inferiori anche lui ricoverato all'ospedale santa croce con codice rosso quindi in gravi condizioni che dire commenti non si possono fare perché ormai sono stati fatti tanti purtroppo questi incidenti capitano continuano a capitare nonostante i consigli le raccomandazioni nonostante i dispositivi di sicurezza però insomma sembra che sia un trend difficile da arrestare un'altra notizia di cronaca invece abbastanza positiva la riferì la riferisce il dottore alberto caverni che è presidente dell'associazione fano cuore una signora una cinquantotenne di san costanzo è stata colta nei giorni scorsi improvvisamente da un infarto ebbene il metodo con cui i soccorritori hanno operato è valso a salvarle la vita i parenti della vittima infatti nel momento in cui hanno chiamato il 112 non sono stati con le mani in mano ma hanno praticato un massaggio cardiaco alla infortunata in attesa che arrivassero i soccorsi arrivasse l'ambulanza del 118 i cui operatori hanno usato il defibrillatore e con questo hanno salvato la vita perché poi l'hanno portata all'ospedale santa croce e qui è stata presa in cura dai medici e quando è arrivata all'ospedale la donna aveva già ripreso conoscenza infarto in casa salvata da massaggio e defibrillatore sono diversi defibrillatori sparsi specialmente nella città di fano ma anche negli altri centri a san costanzo per esempio è in dotazione nei pressi un defibrillatore pubblico e nei pressi della farmacia del paese quel cipresso è un monumento alla natura e si abbatta la chiesa per ricostruirla altrove in questo caso si parla della chiesetta della cupa che si trova a mettauriglia di fano che cosa è accaduto è accaduto che il cipresso che è stato piantato lì nei pressi della chiesa con le radici sta minando la struttura edilizia del piccolo immobile e quindi i proprietari i residenti che sono poi dei fedeli che praticano il loro culto nella chiesetta hanno detto di tagliare il cipresso ma a questa eventualità si è opposta la lupus in fabula l'associazione degli ambientalisti ha detto meglio demolire la chiesetta ricostruirla altrove perché l'albero mentre la chiesetta si può ricostruire l'albero se si taglia muore definitivamente e beh questo è un dilemma da sciogliere e c'è un contrasto che a questo punto diventa insanabile ma i residenti denunciano poi ulteriori penalizzazioni sempre a proposito della strada comunale ponte alto dice il giornale un'altra questione molto sentita sta a cavallo tra lavori pubblici e viabilità il percorso alle spalle dell'abitato lungo la statale adriatica è ormai diventato una via di fuga per scongiurare il passaggio sotto la minaccia dell'autovelox sappiamo come a metauriglia sono in vigore gli autovelox molte sono le multe che questi riescono a combinare per la rilevazione di oltrepasso dei limiti di velocità specialmente di notte quando poi le multe aumentano di parecchio ebbene allora gli automobilisti quelli più esperti hanno trovato una deviazione della strada per scongiurare appunto il passaggio sotto il multa elox e quindi andare sempre un po più forte già mal ridotte queste strade si stanno deteriorando per il continuo aumento di traffico con una maggiore rapidità dai residenti un rimprovero all'amministrazione fanese per non aver tenuto conto della campagna delle asfaltature se il traffico si dirotta su questa strada la strada si rovina sempre più ma non viene asfaltata e poi abbiamo un altro problema riguarda la viabilità un ulteriore appunto rivolto dai residenti all'amministrazione comunale inconcepibile dicono e che la strada a Sant'Egidio 2 abbia limite di velocità a 30 km orari soltanto per il traffico in entrata della statale adriatica un analogo cartello non c'è invece lungo il percorso inverso quindi da monte verso il mare allora sembra un po strano che chi entra da parte dell'adriatica deve stare entro i limiti gli altri invece possono scorrazzare a tutta velocità in senso contrario e beh questo è una cosa che dovrà essere messa a posto restiamo a fano restiamo a fano anche se siamo sulla pagina della Val Cesano per evidenziare una bella iniziativa si parla oggi di Halloween ovviamente ma noi ne parliamo in senso positivo non in quel senso di riferimento ai malefici all'aspetto diabolico e via dicendo che è stato un po all'origine di questa festa noi invece ne parliamo in termini positivi perché dopo gli atti di vandalismo e le bravate compiute dai giovani due anni fa a Sant'Orso durante la festa di Halloween oggi nello stesso luogo la festa diventa istituzionalizzata eccola la mettiamo qui la festa istituzionalizzata vogliamo scrivere una bella pagina per il quartiere di Sant'Orso e per tutta la città ha detto l'assessore alle nuove generazioni Barbara Brunori infatti dalle 15 dalle 15 e 30 per tutto Sant'Orso ci saranno tante tante iniziative a cui parteciperà anche la parrocchia della chiesa di Santa Maria Goretti e anche l'azione cattolica sono iniziative che coinvolgono tantissime associazioni e che vedranno tanti bambini dagli adolescenti ai giovani e anche ai più grandi a essere coinvolti in giochi in caccia al tesoro in disegni insomma un quartiere che si mobilita e diventa anche il centro di attrazione per tutto il resto della città sul Corriere Adriatico abbiamo tutto il programma che riguarda questa festa una festa che la gente soprattutto i bambini hanno voluto celebrare in maniera positiva ed ora diamo un'occhiata alle altre pagine per quanto riguarda alle altre località per quanto riguarda appunto la cronaca strada per Fonte Avellana prioritaria la sua riapertura da Firenze giungono tecnici specializzati il sindaco ricorda le scadenze per i cittadini seppur lentamente si sta tornando alla normalità nel borgo ai piedi del Catria dopo l'alluvione del 15 settembre le criticità purtroppo rimangono molte e sono anche importanti ma al contempo arrivano anche delle notizie positive a fare il punto è il sindaco Lodovico Caverni che inizia dalla situazione idrica sono giunte finalmente a detto le analisi dei nuovi campionamenti effettuati nei punti che erano risultati non idonei alla potabilità l'acqua è tornata potabile e questo ovviamente data l'importanza che ha l'acqua per la vita quotidiana è una bella notizia una bella notizia anche il ricordo che si fa di Don Aldemiro grandi emozioni a Mondolfo è stata scoperta una targa davanti ai ragazzi e alle autorità la rosa blu porta il nome di Don Aldemiro una bellissima mattina quella che è trascorsa ieri a Mondolfo la rosa blu a Don Aldemiro dimostra l'amore che questa località che questo paese, che questa comunità ha nutrito per questo sacerdote una decisione presa dall'amministrazione comunale per ricordare una figura importante che tanto ha amato, che tanto ha fatto del bene che tanto ha confortato anche i malati dell'ospedale un ricordo dunque indelebile giriamo la pagina e passiamo a Senigallia nasce la prima comunità energetica e da domani si spengono i lampioni il progetto con la pastorale diocesana alla cesanella un fotovoltaico per alimentare scuola e palestra ebbene a Senigallia verrà realizzata la prima comunità energetica delle Marche l'annuncio è stato dato nel discorso in Consiglio Comunale saremo il primo comune marchigiano ha detto Elena Campagnolo che è l'assessore all'ambiente a creare una comunità energetica insieme alla pastorale diocesana che potremo realizzare con i fondi del PNRR condivideremo energia elettrica da fonti pulite tramite un impianto fotovoltaico a vantaggio dei cittadini e della pubblica amministrazione l'idea è quella di realizzarla alla cesanella dove il comune ha già ottenuto un finanziamento si tratta di una somma di 300 mila euro di fondi che dovrà dividere con il comune di Chiampo in provincia di Vicenza quindi una novità importante per quanto riguarda soprattutto il caro Bolletta e vediamo anche qualche notizia che ci giunge dalla Regione dove vediamo che un fanese per quanto riguarda la Regione stessa acquista un posto di rilievo e chi è questo fanese? è Luca Serfilippi della Lega che è impregiudicato per diventare presidente della Commissione Governo del Territorio sappiamo che con le elezioni dei parlamentari marchigiani ci sono liberati alcuni posti sia nella Giunta e sia nelle presidenze delle commissioni della Regione allora si fanno totonomi in Consiglio vediamo chi sono i candidati in pole position e vediamo che per quanto riguarda la Commissione Sanità è Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia il nome che si va facendo presidente della Commissione Governo del Territorio invece Luca Serfilippi della Lega e alla presidenza dell'Assemblea Legislativa che subentra a Luca Serfilippi l'incarico che Serfilippi stava occupando fino ad oggi sta occupa fino ad oggi perché ancora la nomina deve essere formalizzata e Marco Marinangeli consigliere segretario dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea vediamo ora qualche pagina che riguarda Pesaro vediamo che si cerca di rivitalizzare il centro storico con un aiuto a riaprire i negozi sfitti e li vediamo è l'assessore Francesca Frenquellucci che ha evidenziato questa iniziativa il Comune chiama gli under 35 nuova vita ai negozi sfitti si danno contributi per aprire nuove attività fino a venerdì 4 si sondano gli interessati gli interessati che vogliono così attivare avviare una nuova attività di carattere commerciale usufruendo poi dei sostegni dei contributi dell'amministrazione comunale possono avanzare la loro richiesta fino al 4 novembre ci sono pochi giorni insomma bisogna decidere in fretta la Frenquellucci porta avanti la battaglia del decoro multe a chi non si adegua multe a chi lascia la sua vetrina la sua facciata in degrado allora l'iniziativa rientra nella strategia che è del Comune di Pesaro che punta a valorizzare il centro storico come già comunicato durante la presentazione del nuovo regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio comunale l'assessore Frenquellucci ha lanciato l'obiettivo di rilanciare il commercio locale e allo stesso tempo promuovere la riqualificazione urbana del centro commerciale naturale quello del centro storico della città quello più frequentato insomma ci sono contributi e soprattutto questa iniziativa si rivolge ai giovani dai 18 fino ai 35 anni e alle donne le donne indipendentemente dall'età e in seconda istanza ai disoccupati e agli inoccupati insomma si tratta di un piccolo budget 15 mila euro che può comunque aiutare diverse attività e poi dall'ultimo report che è stato elaborato sempre dal Comune vediamo che la polizia locale ha emesso 27 avvisi nell'ambito del regolamento sul decoro urbano del centro storico indirizzate alle proprietà di vecchi immobili richiamando e obbligando a ripulire vetrine saracinesche tutto ciò che è sporco o con graffiti o a pannellare la facciata che si è ammalorata di questi 20 proprietari hanno già provveduto 7 per i vecchi locali hanno provveduto anzi 20 per i locali 7 invece non hanno ancora fatto nulla e beh insomma qualcosa si è fatto e la città diventa piano piano più bella tiriamo ancora pagina e parliamo di emergenza a casa è da qualche giorno che Andrea Biancani cerca di sollecitare la regione a rivitalizzare l'aspetto delle case popolari a Fa Pesaro ci sono 150 sfratti il che dimostra come ancora sia sensibile il problema dell'emergenza abitativa preoccupata l'unione inquilini Biancani chiede risorse per ristrutturare gli alloggi non assegnati ce ne sono diversi che sono sfitti che devono essere assegnati ai proprietari rimangono invece chiusi la ciclovia adriatica pronta allo start anche a Pesaro oltre che a Fano l'obiettivo è fare lavori lampo in quattro mesi si tratta del tratto che unirà Colombarone e Gabice un tratto importante nei confini della provincia e anche nei confini della regione un tratto che poi si unirà con quello di Pesaro con quello di Fano e via via con quello che percorre tutta la costa delle Marche e poi non possiamo non parlare del tartufo perché questa volta il tartufo oltre al movimento economico che produce sappiamo come il tartufo è un alimento è un prodotto particolarmente pregiato e quindi costoso ebbene non dimentica gli alluvionati ebbene anche ad Acqualagna si organizzano iniziative in favore di chi è stato molto molto danneggiato dalla tempesta che si è scatenata il 15 settembre scorso e sul palco si esibisce anche Raffaele Gualazzi il grande cantautore il grande pianista di Urbino che sarà protagonista di una kermesse musicale a cui partecipano altri cento artisti tutto in favore della solidarietà giriamo la pagina e vediamo anche la pagina di Urbino pericoli dissesto e incuria strada rossa dimenticata cangini sulle mancate asfaltature oppure è la via che porta al polo scientifico una via importante ci sono strade di serie A e strade di serie B nelle azioni della giunta di Maurizio Gambini del sindaco di Fano tra le cenerentole c'è anche questa strada rossa la strada rossa che viene appunto evidenziata dal consigliere Federico Cangini del gruppo Urbino e il Montefeltro affinché venga curata come si deve e diamo un'occhiata anche al resto del Carlino vediamo come in prima pagina si richiami in modo particolare la maratona musicale che viene organizzata durante la fiera del Tartufo ad Acqualagna per gli alluvionati c'è anche Gualazzi concerto di solidarietà ad Acqualagna con tanti musicisti il pianista di Urbino in prima linea per la raccolta fondi quindi una partecipazione di pregio di elite a Fano invece si richiama il doppio schianto nella notte feriti quattro ragazzi e poi residenti esasperati dallo spaccio alle minacce proteste alla celletta un giro questo che non si riesce mai a sgominare per quanto riguarda le altre province vediamo un richiamo di macerata ambulanza non rientra all'ospedale l'autista è in discoteca vediamo che capita anche questo Ancona sul bus senza biglietto picchia il conducente si tratta di un tunesino di 28 anni fermato due volte in appena 12 ore sabato sera aveva seminato il caos in piazza del Papa veramente un 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 uomo intemperante così possiamo definirlo ad Ascoli e a Fermo si è dato l'addio ad Ameo Grilli che ha sostenuto il territorio e i giovani e poi a San Benedetto un liquido inquinante nel serbatoio 72 famiglie senza acqua ed ora apriamo anche il giornale vediamo come nella pagina dedicata a Pesaro ampio spazio viene dedicato alla maratona di Acqualagna la solidarietà è una musica dolce veramente un bel titolo fatto per questo articolo e la pianista Urbinate ha preso parte alla maratona di 12 ore ad Acqualagna nell'ambito della fiera delle Tartufo e poi invece a fondo pagina abbiamo una manifestazione che è longeva a Pesaro si tratta del festival dei GAD delle compagnie amatoriali che ogni anno si riuniscono per competere tra di loro e allestire i loro spettacoli ebbene chi ha vinto questa 75esima edizione pensate veramente un concorso che è data da lunga data ebbene ha vinto la rassegna il miglior spettacolo Sirano de Bergerac di Edmond Rostand nell'allestimento della compagnia teatrale Archibugio di Lonigo di Vicenza con la regia di Giovanni Florio e poi vediamo che si è aggiudicata questa compagnia anche il premio per la miglior regia e il miglior attore che è stato identificato in Cristian Zorzi miglior attore non protagonista è stato votato invece Ernesto Fava per l'acquario della compagnia Eclissi di Salerno ha conquistato il premio di miglior attore giovane Giovanni Serini per Sancio Panza in Don Quixote e vengono compagnie da tutta Italia minacce schiamazzi e pure spaccio quindicenni terribili alla celletta e il titolo che abbiamo appunto richiamato in prima pagina residenti sono esasperati tornano a chiedere il vigile di quartiere ci promisero le telecamere mai arrivate intanto qualche audace tenta in vano un dialogo ma c'è chi ha dovuto vendere casa e si è trasferito perché veramente resistere in quel luogo era una cosa ormai diventata impossibile e poi vediamo invece un richiamo per quanto riguarda Ancona vediamo questo titolo che un po' richiama l'attenzione seminudo litiga in piazza poi caos sul bus è stato denunciato si tratta di quel tunisino di cui abbiamo parlato un 28enne che è stato fermato dalla polizia due volte in appena 12 ore era l'ultima notizia anzi no non è l'ultima notizia perché voglio anche dirvi come sono andate le giornate di sport per la Vis Pesaro e per il Fano Calcio male per la Vis distante anni luce dalle Big ha perso ancora una partita per 3 a 0 insomma la sconfitta a Reggio una sconfitta eclatante purtroppo per la Vis vediamo anche per il Fano invece è andata molto bene a Fano vince sull'Avezzano per 2 a 0 ecco il titolo tre rigori Broso ne segna due addirittura il Fano vola rimane sempre seconda in classifica l'Alma sbanca l'Avezzano e questo è veramente tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento mercoledì prossimo alle 7 del mattino e per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera occhio alla notizia su Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'Avezzano